bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder ragazzi sono uscite le sfide di miau miau il miascolo dobbiamo trovare l'unicorno pezzato di pezza ed è semplicissimo perché basta andare nella sezione degli agenti e tra prendere l'unicorno del nostro deadpool una volta andati qua facciamo giusto un salto nel suo rifugio e vediamo se c'è qualcosa di importante da fare per le sfide della settimana non si vede la pami vabbè amo ti sentono vieni qua vicino a me e poi bisogna visitare ragazzi i cinque ponti della mappa lo sapete benissimo dove sono i cinque ponti di metallo quello più a destra vicino al monte k2 poi c'è quello dove c'è la fattoria ce n'è uno tra borgo bislacco e parco pacifico ce n'è un altro dove c'è il putrido pantano e poi ce n'è un altro non me lo ricordo quindi ragazzi vabbè easy i cinque ponti li troverete facilmente sono semplicemente quelli in metallo io vi ringrazio noi vi ringraziamo per aver guardato questo video iscrivetevi in tantissimi al canale noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao